Oggi ti parlerò di 5 errori a cui devi fare attenzione quando usi il piano cottura e induzione. Poni particolare attenzione all'errore numero 4 perché tra tutti è quello che lo potrebbe distruggere. Se anche tu stai utilizzando la tecnologia del piano cottura e induzione nella tua cucina sai già che offre molti vantaggi ma richiede anche un uso corretto per evitare, nella migliore dell'ipotesi, qualche inconveniente ma, nella peggiore, un vero e proprio disastro. In questo video ti voglio aiutare ad evitare alcuni errori comuni che, probabilmente senza saperlo, anche tu stai facendo. Scopriamoli subito. Errore numero 1. Sottovalutare la qualità e la compatibilità delle pentole. Quante volte ti è capitato di usare una pentola qualsiasi sul tuo piano cottura e induzione? Senza però prestare attenzione alla compatibilità. Se hai fatto questo errore sappi che non sei solo. Le pentole non adatte possono compromettere l'efficienza della tua cottura. Per esempio, le pentole in vetro, in argilla, completamente in rame o completamente in alluminio senza alcun fondo magnetico non funzionano. Quindi assicurati di utilizzare pentole con un buon fondo magnetico in grado di interagire correttamente con il campo magnetico generato dal piano cottura. Potrebbe sembrare un dettaglio insignificante ma fidati, risparmiare sulle pentole potrebbe costarti caro. Sappi che stoviglie non perfettamente adatte consumano molta energia. Viceversa, investire in pentole e in padelle di qualità ti eviterà di sprecare inutilmente energia e farà la differenza nella preparazione dei tuoi piatti preferiti. Pensaci, hai mai provato a cucinare con pentole sbagliate? Una pentola troppo economica, con un fondo di scarsa qualità, troppo sottile, marsaldato, potrebbe non venire riconosciuta da eventuali sensori di cottura. Oppure potrebbe venire riconosciuta in maniera errata. Potrebbe scaldare poco, in maniera non uniforme e soprattutto, quando utilizzata con la funzione booster, potrebbe raggiungere temperature troppo elevate e diventare perfino rovente e pericolosa. Se noti che la tua pentola è molto leggera e il fondo in versione sandwich sembra una sottile piastrina, evita di usarla. Oppure tienila solo per utilizzi in bassa potenza. Te lo ripeto, quando hai un piano cottura-induzione non dovresti mai risparmiare sulle pentole. Possibilmente preferisci quelle ferromagnetiche in acciaio smaltato, in ghisa oppure in acciaio inox specifiche per la cottura-induzione. Noterai un fondo pesante che fa corpo unico con il resto della pentola senza evidenza di giunzioni. Queste pentole si riscaldano rapidamente e garantiscono sempre un buon rilevamento da parte dei sensori. Errore numero 2. Ignorare la corretta pulizia e manutenzione. Quando è l'ultima volta che hai dedicato tempo alla pulizia del tuo piano induzione? E quando è stata l'ultima volta che hai dedicato del tempo a controllare lo stato delle tue pentole? Se hai risposto non ricordo, potrebbe essere un campanello d'allarme. Perché ignorare la verifica e la pulizia regolare del piano cottura-induzione e delle padelle potrebbe portare a problemi fastidiosi, spreco di energia e persino comprometterne le prestazioni. Assicurati di pulire il piano cottura dopo ogni uso utilizzando prodotti non abrasivi oppure della semplice acqua. Cucinare su un piano cottura sporco oppure bagnato potrebbe portare ad un riscaldamento non uniforme della pentola. La presenza di acqua sotto la pentola durante la cottura potrebbe generare del vapore in grado di spostarla. Quindi assicurati che la superficie in vetro ceramica del piano induzione rimanga sempre asciutta durante l'utilizzo. Avevi mai considerato quanto potrebbe risultare dannoso trascurare la pulizia del tuo piano induzione? Inoltre, verifica che nel tempo le padelle non siano deformate perché i fondi non lisci o che si sono deformati aumentano il consumo di energia. Errore numero 3. Non rispettare una corretta modalità di cottura. Chi non ama preparare un piatto delizioso ed in poco tempo? Ma attenzione, perché la temperatura di cottura gioca un ruolo fondamentale e non solo nel garantire il successo delle tue pietanze, ma anche sul consumo e sulle prestazioni del tuo piano cottura. Inoltre, se non rispetti le temperature consigliate, potresti rovinare non solo il piatto ma anche le tue pentole. Assicurati di regolare correttamente la temperatura in base all'indicazione della ricetta e del tipo di cibo che stai cucinando. Inoltre, evita di surriscaldare la pentola perché si potrebbe danneggiare. È meglio cucinare con cautela piuttosto che rischiare di compromettere la tua cucina. Utilizza pentole e padelle con fondi lisce e di dimensione adeguate la quantità di alimenti che devi cuocere. Se stai cucinando soltanto per te, scegli una pentola piccola perché stoviglie di grandi dimensioni necessitano di maggiore energia per riscaldarsi. Se prepara una pasta, ricorda di cuocere con poca acqua perché più acqua metti nella pentola, maggiore sarà l'energia necessaria per riscaldarla. Inoltre, una volta raggiunta la temperatura, è sempre buona norma passare il prima possibile ad un livello di cottura più basso. Non attivare mai la funzione booster quando non è necessaria. E soprattutto, evita di attivare il piano in induzione con padelle vuote. Lo shock termico alla lunga potrebbe portare alla deformazione delle stoviglie e al danneggiamento dello strato antiaderente, fino a causarne il distacco. Sollivare il coperchio della pentola. Per controllare i cibi, dissipa molta energia. Piuttosto, utilizza un coperchio in vetro e ricorda di scegliere uno che abbia un piccolo foro di sfiato. Oppure, evita di farlo aderire perfettamente perché, quando spegnerà il piano cottura, al diminuire della temperatura nella pentola, si creerà un vuoto che potrebbe anche farlo implodere. Errore numero 4. Tiene la largo oggetti e utensili non adatti. Hai mai pensato alle conseguenze di utilizzare utensili non adatti sul tuo piano cottura e induzione? Ecco, non rischiare di danneggiarlo con utensili sbagliati e la tua cucina te ne sarà grata. In linea di massima, ti suggerisco di non utilizzare piastre metalliche tra piano cottura e le stoviglie, perché, soprattutto attivando la funzione booster, la piastra potrebbe diventare incandescente, pericolosa e macchiare irreparabilmente la superficie. Se una padella oppure una caffettiera non fosse adatta al tuo piano induzione, buttala e compri un'altra. Perché mette al repentaglio la tua sicurezza e il tuo elettrodomestico? Solo per cercare di risparmiare pochi euro. E poi, se hai l'abitudine di conservare a portata di mano sopra o attorno al tuo piano induzione oggetti come contenitore in vetro oppure oggetti in metallo, spostali subito. Afferrandoli potrebbero scivolarti sulla vetro ceramica del piano cottura. E sai cosa capita se il barattolo in vetro del sale o dello zucchero ti cade sul piano induzione? Ti parte una crepa nella vetro ceramica che renderà inutilizzabile tutto il piano induzione perché non lo potrai più lavare senza rischiare che l'acqua penetri nella parte elettronica e non lo potrai utilizzare senza rischiare che la temperatura peggiore la situazione facendo saltare il piano in vetro ceramica. Se pensi che tanto a te non capiterà mai che in un momento, magari, quando sei di fretta ti scivoli un barattolo in vetro sul piano induzione, ti invito a dare un'occhiata a quello che è successo proprio a me. Il barattolo dello zucchero è scivolato sul bordo del piano cottura e sbam! È partita una crepa. Basta un attimo. Errore numero 5. Non preoccuparsi della sicurezza in cucina. In ultimo, ma non meno importante, parliamo di sicurezza. Quante volte hai lasciato il tuo piano cottura a induzione incustodito mentre preparavi il pranzo oppure la cena? La sicurezza dovrebbe essere la tua priorità assoluta quando si tratta di cucinare con questo elettrodomestico. Non lasciare mai incustoditi oli e grassi roventi. Sappi che una cottura lasciata incontrollata utilizzando grasso e olio può essere pericolosa e potrebbe potenzialmente causare incendi. So che in casa il tempo non è mai abbastanza, ma una buona norma sarebbe quella di monitorare sempre tutto il processo di cottura. Anche perché, forse non lo sai, ma in determinate situazioni gli alimenti potrebbero anche prendere fuoco. A proposito, in base all'utilizzo, la superficie del piano cottura potrebbe diventare molto calda. Quindi evita di appoggiarci oggetti infiammabili. Inoltre, una cosa che in pochi sanno è che anche la parte sottostante del piano cottura tende a scaldarsi molto. Se sotto il piano cottura dovesse esserci un cassetto, mi raccomando, piuttosto che riporci le bombolette spray oppure oggetti infiammabili, utilizzalo magari per le posate in metallo. Al limite te le ritroverai un po' calde, ma non esploderanno come invece potrebbe fare una bomboletta in pressione. In linea generale, assicurati di seguire sempre l'istruzione del produttore del piano cottura-induzione facendo una delle cose più faticose per l'utente medio, leggere il manuale di istruzioni. Vedrai che oltre ad apprendere tutte le precauzioni che ti saranno necessarie per evitare incidenti domestici, potresti anche scoprire che il tuo piano cottura ha funzioni particolari che non ti saresti mai aspettato. La sicurezza non è mai troppa quando si tratta di cucina e soprattutto ti sei mai chiesto cosa potresti fare se dovesse svilupparsi un principio di incendio nella tua zona cottura? Te lo dico io. Non tentare mai di spegnerlo buttandoci sopra dell'acqua, ma innanzitutto spegni l'elettrodomestico e poi copri la fiamma che se dovesse provenire da una pentola soffocherai con un coperchio, oppure se dovesse essere un pochino più stesa utilizzando una coperta ignifuga fatta apposta per soffocare le fiamme. Consiglio, tieni sempre una coperta ignifuga in casa. Costa poco e può fare la differenza quando si tratta di soffocare un piccolo fuoco in cucina, ma ricorda anche di non fare mai l'eroe, di chiamare sempre il numero di emergenza. Bene, congratulazioni per essere arrivato fino alla fine. Ora sei ufficialmente un esperto nell'uso corretto del piano cottura e induzione. Abbiamo esaminato insieme i 5 errori da non fare assolutamente se vuoi mantenere il tuo piano cottura in perfette condizioni e goderti una cucina sicura ed efficiente. Ricorda sempre di prestare attenzione alla compatibilità delle pentole, di pulire e verificare regolarmente il piano cottura e le pentole, di rispettare le temperature di cottura, di tenere alla larga oggetti e utensili non adatti e di curare la sicurezza durante la preparazione dei pasti. Segui questi consigli e vedrai la tua esperienza culinaria col piano cottura e induzione migliorare notevolmente.